E' stato lì, il chiede Toglia è una leptopera, Carlo. Missis Toglia? Grazie, Presidente. Lo Small Business Act è stato concepito ed è nato in un contesto diverso dall'attuale, in un momento in cui c'era crescita e c'era sviluppo. Noi ci troviamo ad approvarlo oggi in Parlamento in un contesto tutto diverso, mentre le PMI soffrono di una grande disagio, di una grande difficoltà, perché sono investite dalla bufera della crisi produttiva e dalla crisi finanziaria. Allora il primo significato della nostra approvazione in Parlamento, io credo, deve essere questo. Vogliamo dire alle PMI che il Parlamento e le istituzioni europee sono a fianco a loro e vogliono rafforzare la volontà e la capacità di resistenza che oggi le piccole e medie imprese in Europa dimostrano di fronte alla bufera della crisi. Vogliamo rafforzarla indicando la priorità di questo sostegno e dicendo cose concrete e richiamo una legislazione più agile, richiamo la messa a disposizione di strumenti che consentano un clima meno ostile all'attività di queste realtà. Il secondo punto che io credo noi dobbiamo evidenziare è quello di aiutare le PMI in quello che oggi è il fattore più critico per loro, cioè l'accesso al credito, l'accesso e la disponibilità. Non bastano i fondi messi a disposizione con l'ABEI, dobbiamo assolutamente dire, lo diremo domani, che vogliamo fare di più per dare credito alle piccole e medie imprese.